sagittario le stelle proteggono portano vantaggio nei lavori creativi e insomma mercurio è arrivato e questo mercurio aiuta chi lavora con la scrittura aiuta chi pubblica chi è artista chi comunque in qualche modo ha a che fare con le relazioni i pregiudizi devono essere evitati poi tu sei contro le ipocrisie quindi in amore si sincero e in qualche modo fatti avanti parla con la persona che ricambia i tuoi sentimenti